Luca Berardocco, le tue primissime impressioni del nuovo calciatore del Sudirol? Sono molto contento di essere arrivato qui al Sudirol, è una realtà di cui mi hanno parlato tutti quanti molto bene, per quanto riguarda la società, l'organizzazione, le strutture, quindi sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di mettere me a disposizione del mister. Avevi tante offerte a cui scegliere, perché proprio il Sudirol? Sì, avevo diverse offerte, ma quando è arrivata gli ultimi due giorni, è arrivata la chiamata del Sudirol, da parte del direttore, è stata subito l'offerta che mi ha stuzzicato di più, che ho preso più in considerazione, e appunto, siccome mi hanno parlato tutti quanti molto bene di questa realtà qui, allora ho deciso di venire qui per far bene questa stagione. Sei un centrocampista, ma quali sono le tue caratteristiche tecniche? Sì, sono un centrocampista, centrale, principalmente tecnico, ma sono mancino, mi piace molto giocare la palla, se si può quasi sempre in verticale, e sono principalmente un giocatore più tecnico che di quantità. Per te dei ricordi importanti nel settore giovanile del Pescara con Verratti, qualche ricordo? Sì, sì, con Marco, a parte il settore giovanile del Pescara, ce lo conosco da quando siamo bambini, quando avevo 6-7 anni, che giocavamo contro, quindi nelle rispettive squadre, quindi poi abbiamo fatto le giovanile del Pescara, abbiamo giocato insieme, è stato un piacere, è un onore per me giocare con lui, è stato sempre, sin da piccolo, sempre un fenomeno. Quindi un'ultima domanda, come stai a livello di condizioni e sei già pronto a giocare? Le condizioni fisicamente sono bene, ci sono bene, nel senso che non ho avuto nessun problema fisico e di questo tipo, quindi nell'ultimo periodo a Paglia mi sono andato un po' a parte, la condizione non è ottimale al 100%, però comunque sono pronto per mettermi a disposizione della squadra e del mister. Grazie.